che non è il mio video che non è il mio video che non è il mio video ok tanta guagna per tutti tanta guagna per tutti tanta guagna per tutti siamo qui su steam va vai left4dead2 una battaglia per capire come funzionava steve 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 io ci sono ci sei allora direi che possiamo partire vai nuovo gioco comprato a 3,49 euro su steam in offerta suggerito dalla nostra amica laila basta è vero io sono sincero basta sta sembra un po' un po' walking dead poi c'è anche dead si è bloccato tutto si è bloccato tutto c'è nick e rochelle personaggi cucchiatti spudoratamente da the walking dead a sega dobbiamo trovare la motosega ma c'è la motosega sii caricamento qua ancora in corso ci siamo ci siamo abbiamo giocato io ecco a me va a scatti della merda vai fucile a pompa prendi fucile a pompa no 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 va tutto a scatti va tutto a scatti vai mischio andiamo 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 ma che cazzo non va vai avanti te mi sono incastrato vabbè non sparare gli amici che ti passano davanti come dei stronzi ma perchè io mi blocco nelle colonne andiamo ma che merda scappa scappa che cazzo ci fai? a me non mi seguono è un bene eeeh guarda cosa l'ho trittato io scappo tritaliii tritaliii dove sei? eeeh trita trita che è morto ci mi hai aiutato uuuuuh aiuto ciccione 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 aiuto ciccione io sto morendo ah sto morendo raga arrivo arrivo ci sono un pochino in testa mamma mia muoviti muoviti aiuto sto cagando ad oggi ti salvo io ti salvo io ma perchè sei sempre da fare con quella è finito tutto è finito sai perchè c'era troia quella vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua aspetta mi stanno curando oh grazie grazie aspetta aspetta grazie te bellissimo ti ho curato andiamo adesso facciamo i figli ah io ho finito i munizioni della pistola guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che c'è una bomba una bomba sono una merda tu dove sei dove sei oh sta arrivando da dietro sta arrivando da dietro o sta arrivando da dietro aiuto parca puttana uuu arriva a spara spara nebbia verde c'è una pistola qua c'è la camera che una pistola uuuu cazzo togliamola bella la doppia uuu bella la doppia ciccionazzo ciccionazzo uuuu uuuu porca uuuu 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 black uuuu 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 xiki uuuu uuuu 8 c'è un banco male, c'è un banco male, vieni qua, vieni qua, prendi soldi dai, dammi i soldi ah è fatto bene quella roba ma dove? ah, gli spari ha un banco, ma te non si rompe fatto bene eh? fatto bene esicard, nova, citrus oh oh oh, aspetta aspetta guarda l'aria su lui dove? dove? fluidità del gioco uguale 0 ho finito, ho finito le armi ho solo le doppie pistole giochi, su black, dove? eh, torniamo su a sto punto sento un gruppo diverso beh ragazzi, per 3,49 euro direi che ne basta la pena eh beh ma io non vorrei che mi fa scatti perchè c'ho anche un'altra roba scesa cos'è? cos'è? c'è un problema di connessione perchè devo farmi prendere i colpi da... chi è? chi è? chi è? si ma io voglio una motosega chi è? chi è? cos'è? ti giuro non ho capito cosa è successo io butto una po' qua sparo, sparo, sparo vabbè, non è finita la munizione ah, non è finita la munizione di tutto perchè non le pistole doppie pistole da flippo se su questo gioco c'è la balestra alla tares mamma per forza ma dove sono? boom boom realismo gioco zero dov'è che dovrei andare? ho capito un cazzo realismo gioco zero dai dai andiamo di qua nella strada giusta vieni cacchio allora questo era il bagno perchè non c'è si vede un cazzo allora questo qui è il bagno degli uomini e questo... e questo è anche il bagno oh, fatto bene comunque due bagni degli uomini bene no, è bello che questo bagno qua non c'è adesso vieni avanti te dai, forza dai, dai vai, dai c'è un cazzo cazzo forse non dovevo sparare ok i bagni spattano? no no, questo era... cazzo ma dove? più tu ma scusate andiamo, andiamo eh, vai da solo un moto io spengo la luce nooo bella, ho dato la mitraglietta allora dove siamo? mischio 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 io sono ancora dentro la mano porca p***a io mi sono chiuso dentro la mano ecco state di voi andiamo, andiamo ma dove? ma dove sei? andiamo, andiamo, andiamo che c'è? ma questo non è livello 1 quello che hai inizi sembra, no, è tutto uguale guarda sinistra guarda sinistra ma lo to ma lo to se che può senti che va 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 eh, fucile a pompa è una figata ma traia sto qua i muri da dietro no 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 vabbè dai ragazzi non c'ho parole ma tutti a me può sembrare un cazzo può sembrare un cazzo mi ha vomitato addosso il bomberissimo e adesso entriamo sfondamento e tu? e tu? no 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 ma perchè sempre a te prende? io direi di fare una cosa io direi di fare una cosa sto a posto aiu ecco ho preso una bomba dove sto vedendo? me laga continuamente guarda quanti ci sono se io c'ho il potere questo fucile a pompa mi schia ha preso il fucile a pompini oh guarda guarda si è bugato si è bugato si è bugato guarda qui cazzo c'è quello con la lingua che cerca di prendermi ma c'è una motosicla di tagliare la lingua che scappano come scappano? sta scappando ti giuro ti giuro stai scappando che sfigato no pacchettini 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 hai finito il livello dici? non lo so io prendo meglio che fucilone andiamo con fucile ma restiamo sempre da una motosicla aio si direi che prendo voglio provare questo lo scarro ho preso la scarac uuuh cazzo cazzo dici si direi che prendo è finito è finito bene questo era il gioco allora non lo comprate no compratelo ma cosa ma dove che gioco di merda va bene questo è uno dei tanti giochi zombie che vi abbiamo proposto in questo video compratelo mi raccomando compratelo sul consiglio del mischio c'era motosega come fai a non comprare un gioco con la motosega va che roba ma per favore se volete il continuo di se volete il continuo di questa yeah se volete il continuo di questo gioco di merda mettete mi piace ma non penso che ci sarà un'altra ho finito una motosega dai 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 che cazzo è come cura ma no perchè ho finito la motosega e perchè finiscerà e perchè non fai a finire una motosega no che gioco di merda non compratelo e per ancora Grazie.